Nella creazione dell'immagine, realizzata in collaborazione con il fotografo Massimo Bianchi, su invito di Diego e Giuseppe, abbiamo cercato di evocare la riedizione di un cocktail degli anni 40, con un senso di ambiguità e contraddizione. La sfera verde si trova immersa in un paesaggio pittorico insieme morbido e inquietante. Lo stesso criterio l'abbiamo ottenuto nella scelta dei colori e della grafica per l'allestimento.